Ciao ragazze, bentornate e ben rientrate nel mio canale e benvenute a tutte le nuove iscritte oggi vi faccio un mini video haul dove vi faccio vedere qualcosina che ho comprato in questi giorni è veramente poca roba però siccome so che voi i video haul vi piacciono tantissimo allora ve lo volevo comunque proporre e all'interno inserisco anche qualche chicca di quelle proprio al bacio di quest'ultimo periodo ho scoperto su Instagram, in realtà non ho scoperto ma mi ha scoperta lei perché mi ha seguita su Instagram mi ha messo il follow su Instagram e quindi a quel punto mi è scattata la curiosità una ragazza che è praticamente di Catania e quindi diciamo siciliana come me che ha diciamo una dolcissima, deliziosissima pagina Instagram crea dei bijoux assolutamente fatti a mano è veramente bravissima io era da un po' di tempo che volevo acquistare una cosa in particolare perché io sono un po' malata di queste collane lunghe voi lo sapete, non so se vi ricordate perché se mi seguite dai primordi sapete benissimo che avevo due collane lunghe bellissime che mi piacevano tantissimo che poi per una serie diciamo di sfortunatissime circostanze perché le ho lasciate dentro un camerino di un HM purtroppo le ho perse perché me le hanno fregate e quindi mi sono sempre piaciute le collane lunghe e oltre quelle due collane che ho perso purtroppo perché le sono caparrate io non sono più riuscita a capire cioè anche se sono tornata poi in negozio non sono più riuscita a riaverle ed erano veramente molto carine una era un ricordo tra l'altro diciamo del mio viaggio a Las Vegas insieme a mio marito quindi non vi dico la collera dopo averla persa ne avevo una terza che praticamente mi vedete quasi sempre nei miei outfit perché la utilizzo tantissimo perché è stato un regalo mentre ero a Napoli questa collana, queste collane lunghe praticamente col sonaglino dentro si chiamano richiamo degli angeli sono veramente delle collane sfiziosissime a me piacciono tantissimo proprio perché secondo me stanno proprio bene con tutti gli outfit e le ho chiesto se poteva realizzare per me qualcosa di simile e lei non solo mi ha realizzato la collana ma mi ha realizzato anche gli orecchini adesso io mi avvicino per farveli vedere gli orecchini sono questi guardate che meraviglia e la collana che io indosso è questa ve la faccio vedere così da vicino guardate che meraviglia è una collana col sonaglino si sente che è veramente un amore è tutta dorata ed è stata realizzata interamente a mano da lei con diversi cristalli guardate che bella e all'interno lei ci ha messo pure il sonaglino no vabbè ragazze io sono impazzita è una collana lunga infatti non riesco a farvela vedere perché arriva praticamente fino all'ombelico ma io ve la faccio vedere sempre nelle mie stories quindi vi invito a seguirmi su instagram così non vi perdete niente e non vi ho ancora detto il nome della ragazza che mi ha realizzato questa meraviglia la sua pagina si chiama arabesque bijou questo era il contenitore all'interno del quale perché lei me l'ha consegnata all'interno di questo contenitore qui questa stupenda custodia appunto tutta trasparente è original and made jewels infatti lei lo scrive io vi metto tutti i riferimenti quindi il suo instagram qui lei ha anche una pagina facebook se vi interessa assolutamente contattatela vi dico solamente che questa collana è costata 15 euro secondo me è un prezzo assolutamente abbordabile per essere fatta a mano è veramente un prezzone infatti io diciamo che ho visto diverse pagine però ho capito che lei era una ragazza talentuosa e soprattutto abbastanza umile perché secondo me alla fine chiede veramente poco per queste creazioni tra l'altro io chilometro zero perché essendo una catanese sono riuscita ad incontrarla di presenza ha fatto anche la sua conoscenza si chiama giulia ed è una ragazza dolcissima e spero chiaramente di rivederla ma certamente ci rivedremo e vi dico che ha veramente una bella 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 pagina quindi assolutamente date un'occhiata io nel frattempo vi faccio passare anche in video tutti i riferimenti magari vi faccio vedere la sua pagina instagram è lì che l'ho conosciuta e la ringrazio innanzitutto perché è stata carinissima in due giorni praticamente mi ha realizzato questa meraviglia qui che praticamente indosso dal giorno in cui me l'ha realizzata ma soprattutto gli orecchini me li ha voluti assolutamente regalare è stata un amore infinito quindi mi raccomando andate a dare un'occhiata alla sua pagina e oggi mentre stavo facendo il mio giro sono entrata da Calzetonia a poca roba però ve li volevo fare vedere perché se è un video haul vi faccio vedere tutto quello che ho acquistato volevo prendere qualche collante sfizioso ma in realtà quelli che piacevano a me costavano veramente tanto e non erano poi bellissimi come quelli che attualmente ho perché ne ho un paio che praticamente metto e rimetto mille volte molto belli e sono andata sul classico sono andata a prendere un collante coprente nero semplice questo qui sono gli opachi 50 denari 5 euro e 95 io mi trovo benissimo ce li ho di tutti i colori tra l'altro ce li ho anche col grigio e col marrone però il nero li avevo esauriti e quindi li ho presi 5 euro e 95 io li trovo abbastanza bene con i collante di Calzetonia quindi non li posso affatto lamentare e li ho presi al volo un'altra cosa che vi faccio vedere è che ho comprato al Penny Market voi sapete che io ogni tanto vi faccio vedere le cosine che prendo al Penny Market questa non l'ho ancora provata quindi ve la faccio vedere ma non so come sarà ho finito la mia maschera per capelli della 1000 mi pare non mi ricordo comunque me lo ricorderò perché ora devo girare a breve il video dei prodotti finiti e mi sono comprata questa maschera per i capelli rigenerante per capelli danneggiati della Today che è la marca che hanno appunto al Penny Market sono praticamente 500 ml ragazze non mi ricordo affatto quanto sia costata mamma mia l'odore è buonissimo io non l'avevo neanche aperta perché l'ho presa al volo perché ero senza e vi devo dire che io con questa marca qui della Penny Market mi trovo benissimo ho praticamente quasi sempre utilizzato gli shampoo, i balsamo mi piace tantissimo utilizzare i saponi per le mani insomma fantastica se proverò vi farò sapere ma speriamo perché comunque ultimamente io necessito di una maschera quasi sempre per i capelli perché con questi capelli lunghi non riesco a fare lo shampoo senza mettere un po' di maschera e questa chiaramente si può mettere tranquillamente sotto la doccia ah è all'olio di argan dice addirittura di poterla utilizzare dalle radici alle punte io in realtà non faccio così ma al contrario la metto solo nelle lunghezze perché qui mi tendono sempre un po' a ingrassare però proverò a fare entrambe le cose, vediamo sono passata in parafarmacia perché avevo finito la mia crema della La Roche-Posay quella per le imperfezioni perché ultimamente sto soffrendo di parecchio di imperfezioni sul mento questa cosa un po' mi sta disturbando però purtroppo ultimamente nonostante io faccia maschere contro maschere faccio mille cose purtroppo ho sempre qualche imperfezione sul mento e quindi sono andata in parafarmacia per prendere quella di Bioniche con la quale mi trovo molto bene volevo un po' cambiare perché mi piace cambiare con queste creme alla fine la dottoressa, insomma la tizia che lavorava lì non so se una dottoressa comunque mi sembrava abbastanza competente mi ha consigliato questa Sevia Clear Active della SWR che è una marca veramente molto buona di questa marca ho provato sia l'acqua micellare che diverse creme gentilmente donate da qualcuna di voi se non vado errata adesso non mi ricordo se me le ha mandate la Robby, non mi ricordo qualcuna di voi mi ha mandato queste creme in mini size questa qui in particolare è un trattamento intensivo comedoni e imperfezioni antisegni praticamente diciamo che è proprio per prevenire per curare non solo l'acne ma anche i comedoni perché io soffro di tantissimi comedoni ultimamente qui dice che dunque perché l'avevo letto trattamento completo con azione rinforzata elimina imperfezioni e punti neri restringe i pori e controlla l'eccesso di sebo i segni sono visibilmente ridotti e meno rossi formula oil free con azione opacizzante e idratante a lunga durata finitura non grassa qua c'è scritto di applicare sia mattina che sera da solo in abbinamento a cure dermatologiche eccetera eccetera io stasera proprio inizierò ad utilizzarla perché sono curiosissima la crema si presenta così che bellina non avevo visto il tubetto è questo qua non è costata poco perché questo brand, questo svr che è praticamente molto attento diciamo ai problemi della pelle è abbastanza costoso infatti ho speso 15 euro e 30 lei mi ha fatto anche lo sconto perché era 17 ma me l'ha passata 15 e 30 sono veramente curiosa di provarla e chiaramente stay tuned perché se mi trovo bene poi magari ve ne parlo e magari ve la posso anche consigliare ultima cosa ma non meno importante è il mio regalo di compleanno sì no non vi preoccupate non è ancora il mio compleanno almeno in questo momento che sto girando non lo è ancora ma oggi mio marito mi ha detto no ti devo comprare qualcosa per il compleanno perché poi sicuramente settimana prossima non avremo il tempo anche perché io faccio il compleanno di settimana di 21 quindi non avremmo avuto il tempo e sono entrata da Sephora oggi da Sephora c'era il 15% sul primo cofanetto e il 20% se ne prendevi due chiaramente applicato solo ai cofanetti che acquistavi il resto invece era chiaramente non era in sconto allora io partendo proprio dal cofanetto mi sono aggiudicata e gli facevo la corte veramente niente mio marito mi prende in giro nel frattempo gli facevo la corte da tantissimo tempo mi sono aggiudicata questo lip contour and power bullet di Huda Beauty che sono praticamente i nuovi kit le nuove bocche di Huda Beauty che contengono non più i liquid lipstick come negli altri casi io ne ho già tre ma contengono finalmente i power bullet quindi praticamente i rossetti matt di Huda Beauty io ragazze sbavavo per questi sbavo per questi rossetti ce l'ho già indosso così sapete che quello che indosso è proprio lui allora intanto il kit si apre ed è così all'interno c'è la matita l'ic contour e il power bullet quindi il rossetto poggio tutto qui prima che mi cade dalle mani allora vi faccio vedere prima il rossetto che poi in realtà non ve lo sboccio perché è quello che vedete praticamente sulle mie labbra mamma che meraviglia ragazzi non potete capire quanto ho desiderato prendermi un rossetto di Huda Beauty cioè sono giorni che vado che gli faccio praticamente la corte è veramente veramente confortevole io non me l'aspettavo anche perché devo dirvi che l'ho voluto prendere anche per una questione di provarlo perché moltissime di voi mi hanno detto che sono ottimi e quindi l'ho voluto acquistare anche se io sogno di prendere altre tre colorazioni di questi qui quindi prima o poi li prenderò e questo qui si chiama scusate non vi ho detto il nome si chiama board meeting si è un matte lipstick vi faccio vedere il nome che è scritto qua dietro sperando che sì che la videocamera mette a fuoco ma mette e poi chiaramente sempre all'interno del kit c'era pure la matita io adoro le matite di Huda Beauty io per esempio la bombshell la sto finendo questa qui si chiama HBIC vi faccio vedere il nome qui HBIC ed è praticamente questa meraviglia qua che vi swatcho cioè un marrone meraviglioso e questo è il risultato sulle labbra ragazze cosa dirvi io l'ho messo solamente ora per girare il video perché l'ho appena acquistato ma vi dico già ora che è veramente veramente molto molto confortevole il rossettino e anche la matita non è affatto male poi a me le bocche mi fanno impazzire io ne ho altre tre ho anche quella trasparente che è la fine del mondo quindi top ho comprato questa questa era 34,90 però c'era lo sconto appunto del 15 sul tocanetto e quindi mi è venuta praticamente meno 5,23 euro perché mi hanno levato il 15% esatto sì esatto 15% e poi ho preso al di là di tutte le aspettative perché voi adesso vi aspettate una palette magari di quelle che sono uscite ultimamente no ragazze io finalmente sono felice ho trovato la smoky obsession di Huda Beauty voi direte ma che è sta cosa vecchia in realtà ragazze voi non potete capire io quanto ho cercato questa palettina per completare per chiudere il cerchio delle mie mini obsessions la adoro la smoky tra l'altro è quella che io amo di più tra tutte le palette di Huda cioè guardate quanto è bella cioè l'ho desiderata follemente tra l'altro questo colore qui l'ho desiderato follemente sono troppo troppo contenta di averla presa è troppo bella non la swatcho neanche perché perché voglio assolutamente farvi un get ready with me e farvi magari uno smoky ice ma sono troppo felice questa chiaramente è costata 29,90 cioè l'ho cercata per Mari e Monti ragazzi oggi quando lei mi ha detto sì forse ce n'è una io sono impazzita e l'ho presa perché sul sito è sempre sold out la volevo troppo sono troppo 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 contenta e non vedo l'ora di farvi un sacco di look e poi chiaramente lei stava stava dicendo arrivederci ma io scusi i campioncini ah sì ora glieli do e mi ha dato dei campioncini non so neanche di che si tratta li guardiamo insieme allora Shiseido sempre questo qui è un un siero è una una crema per le rughe antirughe della Shiseido poi sempre Shiseido stessa cosa sempre della stessa linea un un'emulsione da giorno sempre antirughe non so se è la stessa di questa potrebbe anche esserlo poi mi ha dato della face di una non so cosa sia ah una cc cream ecco una cc cream e poi questa è interessante della Dior mi ha dato un siero revitalizzante e questo è molto interessante perché a me le cose di Dior mi piacciono tantissimo questo era insomma quello che avevo acquistato da Sephora ragazzi questo era il mio mini 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 video haul ogni tanto ci sta a fare dei mini video haul poi era tanto per passare un po' di tempo insieme a voi io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima stay tuned